Siamo arrivati in fondo del corchio Ci sono tutte le scritte Dopo le riprendiamo anche con calma L'emozione è veramente Di merda Grazie Collina 20 euro Collina Possiamo testimoniare tutte e cinque Quanto spagano per lì Un ragazzo di Pistoia Che salutiamo Claudio 55 anni ha fatto il fondo del corchio Ovviamente passando la serpente Ricordiamo niente di che Però intanto un meno di 600 L'abbiamo fatto ragazzi È una grossa emozione Carboni già Carboni ci siamo arrivati E è un salito assolutamente Al mio amico Barney Barney Dalla Tirolese Fino a qui ci sono 10 minuti Veramente gli ultimi due o tre passettini Molto meno belli e molto carini Il tremo Adesso aspettiamo Chiudiamo il tutto l'elimento Aspettiamo che arriviamo tutti E poi festeggiamenti e posizionamento Della sorpresa In fondo in fondo in fondo Oddio magari con le mute si sa anche passare Sicuramente si sa quelle cose Però qui si va molto nell'acqua È una sensazione molto bella ragazzi Qui c'è un cretto Sono passato da questa fessura qua In mezzo all'acqua Quindi in buona ora anche ritorno Che dirvi è meravigliosa Questa sensazione è veramente bellissima Avere fatto un altro fondo Almeno per me niente di che Niente di speciale Perché al fondo in cordia Non è difficilissimo Però è un po' impegnativo Sei ore Sei ore mezza per rilevarci Però molta Molta soddisfazione ragazzi Riprendiamo i festeggiamenti a 5 minuti E vai Fondo in cordia Siamo sul fondo in cordia E vai È questa sensazione è meravigliosa Un grazie anche a Carbone Vito Che non ce l'ha fatta l'altra volta Alla sera Alla spalla capolino Al treppo Che mi rende un colpo E a tutti gli amici di casa Compagnate del buganno Sempre numero uno ragazzi Sempre numero uno Adesso mi sto bagnando Vengo fuori Grande ragazzi Grande Acqua fresca Acqua fresca Acqua fresca Acqua fresca Acqua fresca ragazzi Ce l'ha già fatta Ne va Non c'è di prendermi qua Impressione a caldo Di saponetta Una figata assurda Di saponetta Ragazzi ci starebbe meno a fare la sigaretta Ma purtroppo La sigaretta sono fuori Bravo saponetta È stato ovviamente molto bravo Corso due anni fa Fatti il fondo del corchio Lo ripetiamo Perché chi ci fosse Chi sta assegurando adesso Niente di che Nel senso che Non è difficilissimo Però è un po' impegnativo Via E quindi Vieni Bisogna fare il tuo caldo di tost Prossima volta Ok E adesso andiamo nella camera Delle scritte che vuole filmare un po' di tutte E va Fuoco Grazie La carnetta Civitini Compagnia Del Gudello Ok Appoggiamo a Ponte Giorgia Chiunque La può venire a vedere Certamente Non mi ricordo Purtroppo E Quindi Siamo molto felici Voglio condividere questa gioia In me Soprattutto Siamo una Scicchia Tra l'altro non è molto importante Perché A dicembre L'abbiamo fatta E noi siamo arrivati In questo posto Per cui gli ultimi Non posso sentire E' una gioia Quell'uomo Condividere anche Con Vizio E con Giù di Carbone E poi Grazie anche a Saporetta Che sta riprendendo Grazie a Fabione Grazie a Ciale Grazie anche A nostro amigo Claudio Grazie Il nostro amigo Claudio Da Pistoia E un vero Affantura Baccelli Che non è venuto Con noi E poi ci facciamo Un paio di fogli E noi siamo Realmente Molto contenti Ciao Polina No Spende 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 Ciao Polina Ah, c'è l'euro, c'è l'euro, c'è l'euro, c'è l'euro.